È solo la tua opinione. Quante volte ho sentito questa frase? E quante volte anche voi l'avete sentita? Ne sono sicuro. Perché è una di quelle frasi che nella vita continuano a saltare fuori. E perché succede? Succede perché è un modo sia per sminuire quello che dicono gli altri. È solo la tua opinione. Sì. Ma anche le tue opinioni sono solo le tue di opinioni. Cioè, non c'è un granché da dire. E poi c'è gente che fa tutto questo inerente all'arte e al cinema. E quindi io magari me ne esco dicendo ti Oh, guarda, Velázquez è uno dei più grandi pittori di sempre e mi rispondi È solo la tua opinione. No, no. Piano, piano, piano. Non è la mia di opinione questa. È praticamente un dato di fatto. E quando mi ritrovo a dover spiegare a qualcuno che qualcosa di questo tipo è un dato di fatto tutte le volte il discorso diventa complicato e quindi vorrei farlo ora. Vorrei farlo ora, diciamo, una volta per tutte in modo che chiunque possa farsi un'idea. Allora, partiamo da questo. Niente è oggettivo. Niente. Neanche la matematica è oggettiva. Perché? Perché la matematica l'abbiamo inventata noi esseri umani e noi esseri umani è un paio di palle che siamo oggettivi. Non siamo oggettivi. La matematica è praticamente un sistema che noi ci siamo inventati per semplificare la natura stessa dell'universo. Nell'universo non esistono numeri tondi. E gliene frega niente all'universo dei numeri tondi. Ovvio, il sistema numerico funziona. Però è una cosa che ci siamo inventati noi esseri umani. E la matematica e la scienza sono molto, molto serie. Per quello la gente parla di oggettività. Perché c'è l'oggettività dei fatti. Se una cosa è successa lunedì alle 14.35, è successo lunedì alle 14.35, abbiamo longitudine, latitudine. E, scusa, ma la scienza già di per sé finisce per essere qualcosa di abbastanza opinabile. Ora, piano piano, non datemi del complottista. Vi sto dicendo che noi la stiamo ancora scoprendo. Un po' alla volta svisceriamo tutti i segreti della scienza. E ogni volta che salta fuori un teorema va preso un attimino con le pinze e dicendo ok, 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 ok. Per ora la spiegazione più ufficiale è questa. Magari in futuro arriverà qualcuno che ci darà una spiegazione ancora più semplice, ancora più precisa, che vale per più sistemi. E con il passare del tempo si arriva con calma a una legge più seria. Quindi una teoria, che è un insieme di leggi. Non bazzardate a dirmi che la teoria evoluzionistica è solo una teoria, ok. La scienza è molto seria. L'arte no. L'arte non lo è. E il cinema è un'arte. Ha questa sfortuna di essere un'arte. E visto che è un'arte ci si sente in diritto di poter dire eh vabbè, ma questa è solo un'opinione. Se ti dico che questo film fa schifo è solo la tua opinione. No, 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 no. Perché per quanto l'arte sia soggettiva ha il suo lato più oggettivo, più scientifico. E per quanto abbia il suo lato più scientifico anche quello è abbastanza soggettivo. Un film che sia bello o brutto dipende anche dall'epoca in cui vivi. Un film bellissimo ma uscito nell'epoca sbagliata può fare danni. Se Via Col Vento fosse uscito ora non sarebbe il gran film che è. Ogni cosa va contestualizzata nel suo tempo. Va contestualizzata in quando è uscito chi l'ha pubblicato. Com'è possibile che che ne so uscita dalla fabbrica De Lumière sia un grandissimo film? Com'è possibile che lo sia? Che è una ripresa a caso? Beh, è perché è uscito nella sua epoca. E nella sua epoca, nel suo contesto è stato qualcosa di incredibile. Ora, contestualizzare le cose è un inizio per riuscire a capire perché sta succedendo una certa cosa. e ti aiuta a capire un po' meglio perché alcune cose siano considerate migliori di altre. Ma il discorso qui sta un po' divagando, vero? Quindi rendiamolo un po' più serio. Il cinema è una cosa soggettiva perché è un qualcosa che arriva dai nostri cuori dove un regista sta esprimendo qualcosa di molto interiore o il produttore esecutivo o la costumista della situazione. c'è sempre qualcuno che sta facendo qualcosa di più interiore sta tirando fuori qualcosa di personale che ha un'origine emotiva che ha un'origine spirituale o ancestrale qualcosa che comunque non è ferrato come la matematica o la chimica. Ma, ma come fai a tirare fuori queste cose dal tuo cuore? Le tiri fuori così a caso? Prendi il cuore lo tiri fuori dal tuo petto lo appoggi fai cali ma no, non è così che funziona. Devi usare un linguaggio una grammatica. Quando voi fate i temi a scuola mi sarà capitato in passato di fare un tema a scuola, vero? Tutti siamo andati a scuola suppongo e tutti abbiamo fatto dei temi. Com'è possibile che ci dessero dei voti? Ma scusa come fanno a darti dei voti sui temi se è quello che pensi tu? Come fanno a darmi un voto perché mi sono inventato una storia? A parte che il come fanno a darmi un voto perché mi sono inventato una storia è un'ottima frecciatina al video sul la trama non è importante. Comunque ragazzi ragazzi effettivamente la vostra opinione e tutto quello che volete tirar fuori ha un linguaggio. Non lo tirate fuori così a caso non ci vomitate sul foglio scrivete con una penna con una grafia che deve essere leggibile e io posso punirvi se la vostra grafia non è leggibile perché stai comunicando se non si capisce che cosa stai scrivendo non serve a nulla a comunicare. se scegli di avere una grafia illeggibile puoi usare mille escamotage per scegliere di avere una grafia illeggibile però devi contestualizzarlo e quindi si ritorna al discorso che avevo appena finito la cosa va contestualizzata. A scuola ti danno dei voti anche per la grammatica perché la grammatica ha le sue regole e io non posso sbagliare i tempi verbali la gente fa si ricorda sempre del congiuntivo ma anche il condizionale il passato remoto non pensate che la gente non li sbagli in nord Italia il passato remoto non esiste praticamente cioè posso dire che 5 anni fa sono andato a Gardner andai andai a Gardner sta di fatto che è complicata la grammatica ha mille regole e ovviamente io posso valutare la tua grammatica perché se la grammatica non è buona non è buona e non me ne frega niente se tu sei abituato con i tuoi genitori che parli in un certo modo non è così la grammatica non è quella la grammatica è un regolamento che ci permette di esprimerci ci permette di esprimere quello che abbiamo dentro ci permette di esprimere la lista della spesa ci permette di mandare una fattura però la grammatica effettivamente c'è sempre perché è alla base del linguaggio è una delle tante regole del linguaggio sono tantissime le regole del linguaggio ecco lo stesso vale nel cinema lo stesso identico ragionamento vale per il cinema quando io ti critico un film in genere non ti sto criticando il no che schifo è un film d'amore no ti sto criticando il modo in cui viene raccontato non me ne frega niente se il film è superficiale o non superficiale il punto è come viene raccontato Indiana Johnson non ha niente di particolarmente profondo è un film superficiale non meno dell'ennesimo film con Dwayne Johnson ma ma è fatto dannatamente bene e la sua grammatica è così perfetta che finisce per arrivare ai cuori di tutti con molta facilità e interessare a tutti perché perché la sua grammatica il suo montaggio la sua recitazione la sua magnifica colonna sonora di John Williams i suoi effetti speciali le sue scelte scenografiche i suoi costumi il suo trucco tutto quanto è praticamente perfetto un film quindi ha successo grazie alla grammatica no però io posso criticare la sua grammatica se non è fatta bene perché una pessima grammatica fa in modo che certe cose non funzionino bene ora l'esempio della grammatica è abbastanza banale il cinema è più complicato il cinema non è un tema è facile criticare e giudicare un tema perché il tema ha più che altro la grammatica e il fatto che il tuo testo argomentativo sia sensato quindi devi avere delle fonti per quello che dici mostrare una tesi un'antitesi anche nei film c'è questa cosa anche nei film posso criticare il suo lato un po' più argomentativo il fatto che abbia studiato bene le fonti che quindi magari è un film storico si riferisce a una certa cultura controlliamo che la cultura sia corretta controlliamo che non abbia buche di sceneggiatura controlliamo che abbia una certa coerenza narrativa controlliamo che l'antitesi sia abbastanza forte per stare contro alla tesi e ma che al tempo stesso l'antitesi venga smentita e non venga lasciata in sospeso insomma tutto questo c'è c'è anche questo nel cinema c'è la grammatica c'è ovviamente il lato argomentativo ma il cinema è ancora più grande queste due cose noi le possiamo fare da soli io da solo posso scrivere un tema io da solo non posso fare un film non quei film che tutti quanti voi siete abituati a vedere quantomeno qualche film indipendente polacco posso anche farmelo da solo anch'io però il problema è che voi di solito state parlando delle grandi produzioni hollywoodiane che a volte hanno 100 persone alle spalle a volte hanno 500 persone alle spalle altre volte hanno 3000 persone alle spalle non si sa mai e all'interno di un film lavorano tantissime persone già solo per fare la colonna sonora ci vogliono anche un centinaio di persone quindi immagina quanta gente ci vuole e quindi quanto ognuno di loro abbia bisogno di una sua grammatica potete capire anche voi che la grammatica del montaggio e delle inquadrature sia diversa rispetto alla grammatica del trucco la grammatica dell'esposizione fotografica sia una grammatica completamente diversa da quella della sceneggiatura ci sono tantissime cose in ballo nel cinema perché è un lavoro di tantissime persone è una delle cose più belle che ci si vogliono tantissime persone e all'interno di un film giustamente se tu hai studiato cinema o ci hai lavorato ti rendi conto di quanto certe persone stiano effettivamente tirando fuori il meglio o il peggio se abbiano la giusta grammatica oppure no e è ancora più complicato perché il cinema è un metodo di espressione molto più diretto rispetto al tema il tema scolastico ha tutta una serie di cose che lo aiutano ad esprimersi il cinema ne ha molte di più moltissime di più quindi non si tratta solamente di una grammatica e di una argomentazione c'è tantissima roba dietro un film e solamente quando ci lavori o quando te lo sei studiato per bene solo quando hai una certa sensibilità oppure quando ti sei rotto le palle a forza di guardare film e quindi ci hai fatto un attimino l'occhio perché a un certo punto tutti quanti ci abituiamo solo a un certo punto ti rendi conto del fatto che ah ma certe cose in un film sono facili da fare altre sono difficili per esempio per esempio per esempio se ti mai state su un set ora io ricordo quel bel giorno in cui su un set mi ritrovai con il regista che mi chiese di scegliere l'inquadratura così per spiegarmi qualcosa che ne so magari l'ha fatto semplicemente per farmi vedere guarda quanto sei ignorante che non sei niente magari l'ha fatto per questo però per me è stato interessantissimo perché perché mi ha mostrato questi ragazzi che erano in un prato seduti e mi ha detto bene ti rendi conto che questo prato sembra minuscolo sa come si fa a farlo sembrare grande io ho pensato di scegliere un altro prato altrimenti possiamo in post produzione creare una cosa in stile film di photoshop riempiamo l'inquadratura sono tutte idee stupide ma sinceramente non mi viene in mente qualcosa di meglio e lui mi ha detto no devo cambiare lente e io mi sono sentito un coglione perché non ci vuole niente a cambiare lente è semplicissimo lui cambia lente e l'inquadratura da una cosa molto stretta è diventata larghissima e faceva sembrare quel prato che in realtà erano 4 metri quadrati una cosa gigantesca poi ha messo un paio di foglie davanti ai punti che potevano fare intuire tipo dove c'erano cancelletti o simili potevano fare intuire che il prato fosse più piccolo le ha coperte con delle foglie in modo che fossimo in mezzo alle fronde e a te come spettatore sembrava di star spiando dalla cima di un albero queste persone in un prato ma in realtà eri lì a un metro da loro con la giusta inquadratura il giusto millimetraggio e foglie in giro era banale però era una soluzione e un regista si accorge se stai usando queste cose si accorge se stai facendo una cosa molto semplice o molto complicata si accorge se l'inquadratura che hai davanti è facile o difficile e io sto ancora imparando io sto ancora imparando ma già mi sono accorto di un sacco di cose per dirvene una un colpo di scena inaspettato non è difficile è facilissimo perché per fare un colpo di scena non ci vuole nulla cioè io vi faccio vedere un video c'è un gattino un gattino che spinge con le manine e succhia dalle tette della mamma il latte e tutto quanto felice e sta tutto quanto tranquillo ok? è una storia bellissima poi ti faccio vedere il gattino che zampetta alzano troppo le zampe come se stessero notando perché per camminare fa un po' fatica perché appena imparato e cammina qua e là e gioca con la pallina e poi cerca di mordere un ditino ma non ci riesce non riesce a far male perché non ha ancora i denti abbastanza sviluppati ed è adorabile poi lo prendo su un tavolo ci sbatto sopra un martello lo ammazzo colpo di scena sono stato bravo? genio? oh mio dio genio Enrico ha inventato una trama che ha emozionato tutti quelli che mi stanno guardando che hanno detto no non ci è voluto niente è bastato darvi una cosa carina e poi togliervela cioè non ci vuole niente a fare un colpo di scena assolutamente niente è facile basta decidere di fare qualcosa che è inaspettato non ci vuole niente è facile e infatti mi girano le palle quando qualcuno mi dice no ma questo film è troppo geniale non hai idea di quello che succederà guarda io posso dirti guarda questo colpo di scena è inaspettato o anche è geniale è geniale ci sono colpi di scena che sono effettivamente geniali ma non è il fatto stesso che ci sia un colpo di scena a renderlo geniale ecco lo stesso vale per tutti i film lo so che come discorso sembra abbastanza scontato ma pare che non lo sia pare che non lo sia il fatto che un film sia bello o brutto non è una questione di opinioni l'opinione è il ah mi piacciono le storie d'amore no preferisco i film noir no guarda io preferisco gli horror va bene va bene nessun problema qual è la tua opinione? la preferenza è un'opinione dire mi piace il cielo quando è blu mi piace la pioggia è un'opinione dire che il cielo sia color celeste di solito non è un'opinione capisci? poi certo esistono le eccezioni il cielo non sempre è celeste va bene però di base il cielo è celeste non è rosa non è che il cielo all'improvviso diventi violetto il cielo di base è celeste così come nel cinema le regole di base sono quelle non è una mia opinione che lo siano non è una mia opinione che una cosa sia fatta bene o male posso aver torto posso aver torto posso non essermi accorto di qualcosa posso aver sottovalutato perché appunto nessuno è davvero oggettivo siamo esseri umani non siamo macchine non siamo calcolatrici non possiamo essere oggettivi e dare sempre la stessa risposta siamo molto soggettivi empatici e tutto il resto quindi posso comunque avere torto ma stiamo comunque parlando di qualcosa che di base ha una base oggettiva e per quanto un daltonico possa non vederlo celeste il cielo non cambia il fatto che il cielo come regola è celeste e non è giallo mi dispiace non è verde il cielo non è verde so che è sconvolgente per voi sapere ma non è verde e non è una tua opinione che possa essere verde o va contestualizzata e quindi dici no guarda è verde perché c'è l'aurora boreale è verde perché lo vedo così perché sono daltonico e ok contestualizzato ci sono mille eccezioni ma la regola è che è celeste semplice ok lo stesso vale nel cinema esistono mille regole che possono contestualizzare qualcosa ma quando tu ti guardi un film per fare un esempio con un film che io vi ho già criticato Your Name non poteva non capitare questo esempio ovviamente come c'è la riduzione a itra c'è la riduzione a Your Name sul mio canale si arriva sempre a parlare di Your Name in qualche modo è male in Your Name certe cose non è che non funzionano perché sono brutto e cattivo voglio dire un film perché piace a tutti o voglio prendere per il colore la gente che lo guarda che lo ama ma vi può tranquillamente piacere io vi sto dicendo che non è un gran film non è fatto bene è fatto da una persona che non si è particolarmente impegnata ci sono delle cose che sono fatte bene i fondali complimenti per i fondali certo non puoi fare i complimenti per i colori o perché sono realistici perché li hanno ricalcati però effettivamente funzionano bene ma non puoi farmi complimenti per la struttura dei personaggi è pessima perché una volta che tu devi strutturare un personaggio una volta che lavori sulla struttura di un personaggio una volta che inizi a dover fare esercizi teatrali sulla cinesica della camminata tu ti rendi conto del fatto che i giorni in queste cose non ci sono e ti rendi conto di quanto tantissime soluzioni siano fatte semplicemente perché non c'era particolare impegno perché era il modo più semplice per risolvere la cosa così come un raggista si rende conto del fatto che tu per far sembrare più grande un prato abbia usato un certo millimetraggio la stessa regola vale per tutto in tutto in tutto c'è qualcosa che si sa che è più facile da fare come un cuoco se tu hai a che fare con un cuoco non lo puoi prendere per il culo lui si accorge se tu hai effettivamente grattato via la parte bruciata della torta salata se ne accorge perché è un cuoco e lui ci ha sempre lavorato e lo riconosce la riconosce perché lo vede l'ha studiata ci ha lavorato fa due più due e dice scusa ma si vede che è grattato via una persona qualsiasi che mangia quella torta magari non se ne accorgerà mai perché ci metti sopra lo zucchero a velo e hai risolto il problema un regista o meglio un cuoco in questo caso se ne accorge invece lo stesso vale per il regista che si accorge degli errori nei film o in generale qualcuno che ha studiato cinema si accorge degli errori nei film e gli errori non sono quelle cose in cui per disattenzione hanno svegliato una certa cosa ma ti accorge del fatto che si siano impegnati o meno a farlo per esempio ti accorge del fatto che una cosa fosse facile o meno da fare era facilissimo farvi piangere con un film come a Cico e non possiamo fare i complimenti da Cico perché vi fa piangere perché anche scatenare emozioni all'interno dello spettatore è uno schema è uno schema semplicissimo vi devo far piangere basta un certo tipo di inquadratura che ti fa empatizzare di più con il personaggio in questione quindi piccoli dettagli della mano che trema dell'occhio che sta avendo un po' di lacrime o qualcosa da molto lontano dove tu ti immagini l'aspetto esteriore del personaggio che soffre ma in realtà vedi solamente l'espressione corporea e poi una musica triste avvolgente lenta con dei colori particolarmente passionali come può essere un grande tramonto e automaticamente la gente piange ma non ci vuole niente cioè metti queste quattro cose in croce e la gente piange vuoi far morire un personaggio fai l'inquadratura del personaggio dall'alto mentre ti allontani da lui e la gente dice oh no è morto non sono stato bravo ho usato uno schema che si impara a scuola di cinema ed è quello il punto alcune cose si impara a scuola di cinema sono sempre quelle sono degli schemi facili e per quello ti rendi conto che oggettivamente non va bene perché è una cosa già vista e non è che devi fare tutte le volte una cosa nuova però se è una cosa che tu hai imparato a scuola se è un trucco semplice non posso farti i complimenti perché hai applicato una regola va bene non è che ti posso criticare perché hai applicato una regola però è una regola base e una volta che tu ci lavori nel cinema o che lo studi o chissà che altro te ne rendi conto vuoi far sembrare spaventoso qualcuno lo inquadri dal basso puoi fare i complimenti a un film quando riesce a usare al meglio la sua grammatica quando sfrutta la grammatica quando sfrutta errori grammaticali quando sfrutta il fatto che ci siano mille regole egli usa suo vantaggio per tirare fuori qualcosa di nuovo o quando inventa delle nuove regole e questa cosa a voi può sembrare una cosa troppo tecnica che me ne frega a me se in un film hanno inventato nuove regole a me interessa che il film emozioni bene se ti interessa che un film ti emozioni che non è tutto in un film assolutamente ma se a te interessa questo se ti interessa che ti emozioni ti rendi conto del fatto che tu vieni emozionato di più proprio dal fatto che il film sia fatto bene se davvero se davvero fosse solo una questione tecnica e solamente chi chissà di cinema ci si masturba su ste cose allora effettivamente potresti dirmi che vabbè è una cosa che riguarda chi si intende di cinema e invece no e invece no Star Wars è piaciuto a tutti la bussola d'oro no perché perché uno del due era fatto bene lo so che il pubblico non sa di queste cose tecniche ma le subisce queste cose tecniche non sono state inventate per piacere alla gente a cui piacciono le cose tecniche queste cose tecniche hanno un effetto sul pubblico è quello il punto queste cose tecniche che la gente ignora giustamente perché che ve ne frega a voi dopo tutto queste cose tecniche non sono solamente la tecnica sono cose che influenzano il modo in cui tu spettatore vedi il film e quindi il fatto che che questo film ti abbia fatto piangere ti abbia emozionato ti abbia ricordato la tua nonna morta deriva dal fatto che è stata usata una tecnica deriva dalla tecnica il fatto che un film sia molto dolce deriva dalla tecnica certo ovviamente deriva dal fatto che l'autore avesse un cuore molto dolce ma se non avesse avuto la tecnica per renderlo sullo schermo e fare in modo che arrivasse a te spettatore sarebbe rimasto dentro lo suo cuore e basta per quello si va a scuola di cinema cioè non è che la gente pazza e va a scuola per imparare a far cose che in realtà alla fine è solo la tua opinione si va a scuola si viene laureati in cinema si viene bocciati in cinema perché esistono delle regole e perché queste regole servono a tirar fuori quello che è dentro tutta la tua parte emotiva profonda che vuoi tirar fuori in un film devi tirarla fuori in qualche modo anche in arte insomma io l'ho studiata l'arte ho fatto pittoriche ho fatto un sacco di belle cose e quando tu fai un quadro per quanto tu lo faccia soprattutto tirando fuori un flusso interiore per quanto tu possa essere jackson pollock che entra in trance mentre dipinge stai usando una tecnica stai usando un intermediario qui c'è quello che tu provi e nessuno lo può sentire e tu prendi un intermediario per tirarlo fuori e non si tratta di tirar fuori le emozioni e basta ve la sto semplificando come cosa molto complicata l'arte puoi tirare fuori un sacco di roba a parte l'emozionare il pubblico però devi comunque farlo tramite un medium e questo medium è il cinema in questo caso e il cinema è un linguaggio se tu non usi la tecnica non puoi tirar fuori quello che hai dentro se tu non usi la tecnica non puoi scatenare niente nello spettatore e ci sono dei metodi per scatenare qualcosa nello spettatore che sono quelli utilizzati anche dalle pubblicità quelli semplici facili industriali che vengono prodotti in serie come le merendine kinder e ferrero e poi ci sono quelle cose un attimino più sentite più personali quella tecnica che ha bisogno di più impegno che magari è la tua dolce nonnina che ti prepara la torta per la colazione non è uguale a una merendina kinder e ferrero perché una viene prodotta in serie è facile ha una ricetta fissa che è sempre quella e che è dolce perché c'è messo lo zucchero e poi c'è la nonna che finisce per crearti qualcosa che è dolce perché c'è del miele della cannella e quindi più sofisticata e quindi più buona e più salutare e lo stesso vale per il cinema ci sono film più salutari film meno salutari sono film fatti con più impegno con meno impegno e quando io ti dico che un film è bello brutto fa cagare è ottimo e tutto il resto ti sto parlando solo del lato tecnico non di quello che l'autore aveva dentro perché l'autore può avere dentro quel cacchio che vuole e deve trovare il modo di tirarlo fuori e ora e ora piccola cosa extra tutto questo discorso significa quindi che se alle persone arriva quello che l'autore ha dentro allora significa che il film è fatto bene? no perché bisogna vedere come ve lo fa arrivare se tu per tirar fuori qualcosa copi un altro film per esempio e mi fai croglare le braccia se mi usi dei cliché sapete che cosa sono i cliché vero? i cliché sono delle tecniche cinematografiche che continuano a tornare ogni volta io voglio rendere una notte spaventosa in modo che tu abbia paura che il protagonista venga attaccato faccio piovere metto la tempesta tuoni e fulmini in modo che ci sia quest'atmosfera più pesante c'è la pioggia quindi è più freddo e poi ci sono questi lampi che illuminano nella foresta luoghi che altrimenti sarebbero al buio e possono farti vedere per un istante che c'è l'assassino lì in fondo è una tecnica semplice è un cliché è facile spaventare qualcuno mettendomi un temporalone di pioggia con tanto di tuoni è un cliché e quindi non posso farti complimenti perché hai usato un cliché perché per usare un cliché non ci vuole niente è un cliché perché? perché stai copiando un film che per primo ha avuto questa idea e poi tutti i film si sono copiati tra loro e tutti quanti hanno fatto la stessa cosa è carina è carina come idea è carino che tu all'interno del tuo film mi voglio mettere qualcosa che arriva da un altro film ogni tanto magari ma se tutto il film è fatto di regole preimpostate di quelle che puoi comprare se hai fatto di filtri di Instagram io non ti posso fare complimenti per il filtro perché l'hai preso già pronto e ho Instagram forse un ottimo esempio su Instagram tu puoi pubblicare delle storie e essere bellissima o bellissimo o bellissima asterisco perché hai messo un certo tipo di filtro io non ti posso fare i complimenti perché hai messo il filtro che ti fa dei colori belli perché non l'hai fatto tu il filtro il filtro c'era già l'hai solamente preso in prestito ora puoi utilizzare quei filtri in modo geniale ci sono dei registri che sfruttano i cliché a loro vantaggio Quentin Tarantino ti prende delle cose che in realtà arrivano da vari film ti ruba ovunque e ti crea qualcosa di nuovo come se fosse un collage lo stesso vale per un film fatto male un film fatto male è un film che prende dei filtri già pronti te li sbatte in faccia e sì certo ha dei bei colori ha delle belle animazioni però sono cliché riciclati sono piccole regole scolastiche sono cose che si sono già viste in mille film e che l'autore ha tirato fuori non perché lui personalmente si sentiva di usare questo metodo ma perché sapeva che avrebbero funzionato perché hanno già funzionato quando hanno fatto quel film 30 anni fa allora li riutilizzo anch'io ed è complicato è complicato capire anche solo qual è il confine tra quando la gente riutilizza qualcosa perché vuole creare una sorta di collage quando la gente riutilizza qualcosa perché non si impegna te ne accorgi quando ci lavori dentro quando ti accorgi che ah mi stanno inquadrando questa persona molto da vicino perché? perché mentre questi due personaggi stanno inquadrando all'improvviso mentre questi due personaggi stanno parlando all'improvviso mi inquadrano un vaso succede perché quelli sono fegatelli sono fegatelli praticamente il regista quando sta girando una scena dopo averla girata fa un giro dello studio e inquadra varie cose che si trovano all'interno della stanza vasi fiori quadri vista fuori dalla finestra e se gli attori fanno un errore ti mettono un fegatello in quel punto quindi nel momento in cui magari il personaggio si sta grattando il naso loro decidono di inquadrare da tutt'altra parte inquadrano il vaso eh che bello questo vaso mentre gli altri parlano vero? è un fegatello tu quando guardi un film e te lo godi non te ne accorgi una persona che ci lavora nel cinema o che l'ha studiato invece se ne accorge e può dirti ah quello non è un bravo attore perché ha costretto il regista a mettere un fegatello in quel punto perché non era in grado di gestire la scena e quindi la gente fa i complimenti a Leonardo DiCaprio quando ha fatto tutta quanta quella cosa in cui si nascondeva nei cadaveri di cavallo semplicemente perché era su schermo tantissimo tempo e si vedeva che era un bravo attore perché continuava ad essere inquadrato in faccia e lui continuava a recitare e sai che è più difficile questo è molto difficile che non ci sia mai un errore e quindi tu possa fare una ripresa più lunga ok? è un esempio molto semplice ora mettete assieme anni e anni di studi perché le scuole di cinema sono tre quattro anche cinque anni a volte di studi studi sull'arte sulla storia dell'arte sulla fotografia c'è tantissima roba nel cinema mettete insieme tantissime cose che vengono insegnate in varie materie nel corso di tanti anni e vi renderete conto del fatto che ah è per questo allora che la gente poi critica i film e mi dice questo è bello questo è brutto certo perché certe cose sono facili da fare alcune sono escamotage alcune sono banalità alcune non ci vuole niente a fare altre sono molto difficili da fare altre devi fare i complimenti perché è stato molto difficile alcune trasmettono meglio quello che tu vuoi trasmettere altre lo trasmettono peggio con la giusta grammatica tu puoi dire con esattezza quello che provi con la giusta poetica perché la poetica ha tutte le sue regole la metrica e tutto il resto tu puoi usare i jambon per riuscire a far sentire qualcosa allo spettatore al lettore a chiunque altro ed è lo stesso che vale per il cinema ci sono tantissime cose che ti aiutano ad esprimerti meglio o peggio che possono scaturire emozioni nello spettatore ma sono emozioni molto basiche come la tristezza e ce ne sono alcune che non hanno una tecnica precisa sono molto complicate che possono scaturire dentro allo spettatore una forma di empatia ma al tempo stesso un po' nostalgica più qualcosa che trasmetti è complicato complesso e mai visto più diventa difficile da realizzare e puoi fare i complimenti alla tecnica puoi fare complimenti per un sacco di cose come avrete visto di sicuro in un film che riguarda Robin Williams forse lo conoscete e che presenta molti ragazzi che salgono in piedi su dei tavoli su dei banchi allora allora come lui disse all'interno del suo del suo film effettivamente tu non puoi valutare la poesia con due parametri con il parametro del quanto riesce a trasmettere e quanto usa bene la tecnica per trasmetterlo non basta solo questo io sto parlando di questo perché è semplificare ma in realtà è più complicato ancora di così molti film non vogliono trasmettere nessuna emozione anzi in realtà la maggior parte non si preoccupa particolarmente dell'emozione che vuole trasmettere se tu mi prendi che ne so a Baschia Rostami se mi prendi Lars von Trier non è che ti vuole semplicemente far piangere perché in Dogville succedono cose brutte è molto più complicato un film può trasmettere cose estremamente complicate è una delle arti più complicate in assoluto perché ne riunisce tantissime tutti insieme riunisce l'architettura la musica e la pittura e la fotografia c'è tantissima roba tutta quanta insieme in un colpo solo è ovvio che posso trasmettere cose molto complicate molto complesse e che non sono emozioni possono essere pensieri filosofici possono essere ragionamenti alla base possono essere insegnamenti possono essere morali ma può essere anche solo qualcosa di più leggero può essere qualcosa di molto spirituale che quindi non vuole trasmettere nulla può essere un intento catartico può essere una semplice raccontare un'esperienza senza voler scaturire nulla in particolare è complicatissimo è complicatissimo semplicemente la critica cinematografica consiste nel criticare non il fatto che il regista sia un'anima in piena che vuole trasmettere qualcosa di bello ma quanto riesca a trasmetterlo bene non quanto a te spettatore arrivi ma che cosa lui abbia utilizzato per fartelo arrivare e poi se abbia funzionato o meno è complicato e ci sono tantissimi parametri non ce n'è uno solo nel cinema non c'è un solo modo una sola regola per decidere se il film è bello o brutto e va bene o non va bene i film sono complicati sono cent'anni di storia i film sono qualcosa che deriva dall'arte e l'arte è molto più antica è come se il cinema fosse figlio di più di 4.000 anni di storia se prendiamo la venda di Willendorf allora parliamo di 10.000 anni di storia che vanno portato al cinema alla fine è complicato è molto molto complicato e io stesso sto imparando ogni giorno di più e ogni volta che faccio un video poi mi dico ah cavolo quante poche cose sapevo quella volta oh quanto non mi sapevo esprimere bene oh quanti errori ho fatto perché si scopre un po' alla volta ed è complicatissimo se non fosse complicatissimo non ci sarebbero voluti tutti questi anni per arrivare al risultato del cinema quindi ragazzi io vi consiglio con tutto il cuore di accettare l'idea che non è tutto soggettivo non è solo la tua opinione perché non è la mia opinione come si fa un film e se questa cosa ci vogliono 5 minuti per farla o 4 anni non è una mia opinione se una cosa per farla vabbè bastano 5 minuti di impegno oppure devi inventarti una tecnica tutta nuova non è una mia opinione che quello che tu hai trasmesso sia arrivato davvero al pubblico oppure no che fosse effettivamente sincero oppure no è una mia opinione che tu volessi esprimere qualcosa che mi piace e che mi interessa o che non mi interessa è una mia opinione che mi interessi quello che vuoi esprimere è una mia opinione che una certa cosa sia piacevole e gradevole oppure no è una mia opinione che io preferisca un certo tipo di racconto o un altro che io preferisca una certa tecnica o un'altra perché magari mi arriva meglio magari il bianco e nero mi colpisce più del film a colori ma che cambia alla fine alla fine quali sono le parti più soggettive le parti oggettive però esistono e te le studi e si discute non è che se io ti faccio una critica allora non puoi essere attaccata semplicemente stiamo parlando del lato più oggettivo e quando io dico che un film fa schifo non ti sto semplicemente dicendo che non ti può piacere ti sto solo dicendo che il film è fatto male che chi lo ha realizzato non si è impegnato tutto qui sto finendo la voce ho parlato troppo e il discorso era troppo confuso e ripetitivo vero? 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 pensavo che sarebbe stato un video corto anche perché come punti non è che ne avessi un granché quindi pensavo che sarebbe stato qualcosa di abbastanza semplice e lineare e invece no invece no e ci ha voluto un bel po' un discorso bello complicato e inizia a essere tardi quindi credo proprio che sia arrivata l'ora di chiedervi voi che ne pensate? mi potete fare degli esempi? ma perché qualcuno di sicuro sarà interessato ad andare nei commenti e vedere una cosa del genere mi sapete fare degli esempi di cose che effettivamente potete usare come esempio per dire guarda questo oggettivo questo non è oggettivo e non ditemi cose tipo oh qui l'animazione è fatta male ma per esempio che questa cosa nello specifico all'interno di quell'animazione è fatta male un po' più preciso in modo che la gente riesca anche a capire che effettivamente ci sia un motivo perché è fatto male perché c'è questa cosa perché alcuni film oggettivamente hanno un problema perché non è mai stato un segreto per esempio che a me non piaccia arancia meccanica a me non piace mi dispiace ma non mi piace però è un bel film è un film grandioso straordinario non c'entra nulla il mio gusto personale con quello che effettivamente è la critica di un film posso metterci qualcosa di mio personale ma lo specifico se è mio personale in caso contrario mi dispiace ma quando vedete un video in cui critico Your Name non lo faccio per dirvi che a me non è piaciuto lo faccio per dirvi guarda è pieno di cose dove non sono stati attenti se fossero stati attenti l'avrebbero risolta se si fossero impegnati saprebbero come concludere questa scena non sapevano come ottenere questo risultato allora l'hanno messo lì a caso piazzato in mezzo e non ci vuole niente a scrivere la giusta sceneggiatura non è una questione di budget è molto molto complicato il cinema ci sono un sacco di limitazioni che devi prendere in considerazione per questo io sono partito parlando di contesto in base al contesto giusto tu mi puoi dire ah ma questo film aveva poco budget quindi va perdonato se gli effetti speciali non sono un gran che ma non va perdonato se poi li sfrutta troppo come se non si fosse reso conto che aveva poco budget e non si poteva permettere quegli effetti speciali serve anche un attimino di senso logico di senso critico e abbiate anche un po' di buon cuore quando fate una critica a un film non potete attaccare qualsiasi cosa sia fatta male contestualizzatelo e perdonate anche entro un certo limite a patto che il film non abbia un errore ogni 5 secondi e comunque io ti vedo che non ti sei ancora iscritto al canale molto molto male io ti vedo la vedo quella campanellina non attivata perché non vuoi le notifiche ti vedo ti vedo iscriviti e non c'è niente di inquietante se io lo faccio così e te lo dico assolutamente niente di inquietante perché mai dovrebbe esserci qualcosa di inquietante a volte mi metto a fare il coglione a volte mi metto a fare il coglione a metà del video e boh credo di star delirando ho parlato troppo è questo che succede parlo troppo e poi inizio a delirare